buonasera a tutti buonasera e benvenuti alla diretta di oggi 29 novembre 17 30 con un po di ritardo perché sono dovuto correre alla camera perché avevo da fare un intervento che probabilmente potete vedere anche sulla mia pagina facebook e sulla pagina del partito democratico sono stato con annascani a parlare di qualcosa di cui voglio poi anche naturalmente far cenno durante questa mia diretta prima di cominciare però come al solito ricordate di pigiare la freccetta qui sotto dove c'è scritto condividi per poter invitare altre persone ad ascoltarla e naturalmente anche potete farlo con il video che resterà alla fine della diretta sulla pagina facebook sulla quale ci troviamo sul canale youtube e sul mio blog imanscalfarotto.it questa è la maschera che ho indossato questa è la maschera che ho indossato all'inizio della diretta che abbiamo tutti noi parlamentari del pd indossato ieri sera alla fine del discorso nell'intervento di graziano del rio quando è stato poi alla fine approvato l'orribile osceno decreto salvini abbiamo voluto mettere queste maschere per ricordare che questa legge è una legge che crea tantissime persone invisibili che non spariranno dal nostro paese persone che non potranno più avere la protezione umanitaria persone che non potranno più accedere agli sprar quindi a questo strumento prezioso di integrazione che il mondo ha osservato con grande attenzione per la sua efficacia un decreto appunto che aumenterà la marginalità aumenterà la propensione al crimine di persone che non avranno più possibilità di fare altro e che quindi invece di creare sicurezza come il titolo del decreto prometterebbe decreto cosiddetto sicurezza immigrazione è in realtà un decreto che andrà a produrre ulteriore insicurezza io non penso che questo sia un caso penso che la lega lucri su questa sensazione di insicurezza su questa percezione di insicurezza sappiamo che i reati negli ultimi anni sono calati sappiamo che gli sbarchi di migranti sono diminuiti ma naturalmente l'idea di tenere una percezione di pericolo molto elevata serve alla lega a fare paura e sulla paura a ottenere consenso elettorale questa è la verità ed è anche peraltro un provvedimento che va a incidere profondamente sulla nostra cultura sulla nostra identità noi siamo un popolo accogliente siamo un popolo civile siamo un popolo di migranti abbiamo siamo migrati noi stessi per almeno un secolo e mezzo in altre parti del mondo esistono paesi come l'argentina dove la maggior parte dei cittadini hanno origini italiana e oggi abbiamo invece un decreto che in realtà instilla dentro la cultura nazionale e in un certo senso cristallizza e celebra forse anche una forma di razzismo ieri abbiamo letto sui giornali di questa donna eritrea aggredita in un ospedale a ragusa con la sua bambina piccola alcune persone le hanno detto vai via che porti delle malattie sappiamo io ieri in aula ho ricordato questo episodio che mi ha colpito tantissimo di questo nostro concittadino di lodi che intervistato dalla 7 ha detto che i bambini stranieri erano zecche e ieri ho detto in aula anche questo intervento lo trovate sulla mia pagina facebook sul mio blog ivanscalfarotto.it che io in un paese che considero i bambini delle zecche non ci voglio vivere non è questo il mio paese io penso che non sia il paese di nessuno guardate per quanta poca stima io abbia del movimento 5 stelle penso anche che i parlamentari e gli elettori del movimento 5 stelle non vogliono vivere in un paese così e questo però crea una doppia colpevolezza in tutti i parlamentari del momento 5 stelle che hanno votato la fiducia al governo e che hanno votato anche ieri e questo decreto veramente orribile è un governo che sta infilando una serie di atti che sono appunto pericolosi noi stiamo sdoganando appunto come dicevo questa idea del razzismo questa idea del prima gli italiani questa cosa per per cui appunto addirittura neanche quella che la protezione umanitaria va riconosciuta a chi si muove e chi scappa da altri paesi per ragioni legate alla guerra o anche all'economia e che certamente l'italia non deve gestire da sola non è giusto che sia l'italia l'italia sia lasciata con i suoi 8 mila chilometri di coste a fronteggiare questo fenomeno però non è pensabile lavorare in questo modo non è pensabile come dire instigare negli italiani questi istinti così bassi e far leva no su questi sentimenti così orribili e questo secondo me il danno ancora più grave ancora più grave della malafede della lega che lucra consenso elettorale quello che è veramente grave che l'italia che è uscita dal parlamento ieri è un'italia diversa da quella che abbiamo conosciuto un'italia più cattiva più arcigna meno disponibile al dialogo più egoista meno umana più distratta più concentrata su se stessa meno presente nel mondo e dico che questo in un certo senso nega la nostra identità perché l'italia è amata in tutto il mondo un paese per quanto piccolo paese che tutti conoscono la cui cultura tutti conoscono il cui stile di vita tutti conoscono le cui bellezze tutti conoscono la cui capacità di produrre eccellenza tutti conoscono e noi siamo amici diciamo siamo conosciuti per essere brava gente no e diciamo che da questa seduta del parlamento di questa settimana è uscita un'italia nella quale io mi sento molto a disagio e penso che abbia prodotto dentro la coscienza del paese una ferita culturale identitaria prima ancora che politica che sarà difficile smontare guardate noi non ce ne stiamo rendendo conto un po come la storia della rana messa nell'acqua calda che non esce no che si trova lessa e bollita e muore perché non si accorge di quando è il momento di saltare fuori dalla pentola e secondo me siamo un po in quella situazione no stiamo cedendo libertà stiamo cedendo dignità stiamo cedendo diritti poco alla volta e in una sorta di come dire effetto palla di neve non è una sorta di effetto valanga che cresce sempre di più ci troviamo sempre più in difficoltà in un parlamento che ormai è gestito completamente dalla lega questo evidente 5 stelle prova a portare a casa quello che può ma come abbiamo visto la lega li mette li manda sotto scrutinio segreto la lega mette la fiducia sul suo provvedimento sull'immigrazione ma non fa mettere la fiducia su quello di bona fede sulla corruzione quindi salvini la legge l'ha già portata a casa pensate che invece che il provvedimento anti corruzione di bona fede poiché sono andati sotto alla camera deve andare al senato ma prima di essere definitivamente provato dovrà ritornare alla camera per la definitiva approvazione e sapete che nel mese di dicembre c'è anche la legge di bilancio per questo sarà difficile ci vorrà tempo il parlamento è molto ingolfato e poi ieri è successa un'altra cosa gravissima davvero gravissima io penso che non abbia precedenti nella storia parlamentare io non mi ricordo di una cosa di questo tipo ma sarebbe curioso andare a fare un po una verifica degli archivi degli degli atti parlamentari ma quello che è successo ieri che il presidente del consiglio dei ministri che esprime la voce del governo soprattutto nei fori internazionali ieri è stato completamente sbugiardato in aula dal ministro dell'interno salvini sul global compact che questo accordo internazionale per la gestione delle migrazioni che sarà firmato a marrakesh in marocco tra pochi giorni all'inizio di dicembre intorno il 10 11 dicembre e sul quale l'italia si era impegnata nel senso che il presidente del consiglio dei ministri anche in una sede ufficiale come le nazioni unite aveva detto che l'italia avrebbe sostenuto questo global compact e il presidente del consiglio dei ministri è colui che porta la voce diciamo la posizione dell'intero governo anche i governi di coalizione trovano la propria sintesi nella propria sintesi nel presidente del consiglio dei ministri e poi su una materia come la politica estera che è una materia tipicamente governativa quello che è successo è che sostanzialmente ieri in aula salvini ha detto che l'italia non firmerà il global compact che non andrà a marrakesh che ci dovrà essere al limite un voto del parlamento e quindi di fatto il ministro dell'interno ha nel silenzio del movimento 5 stelle che esprimono il presidente del consiglio ha detto che il presidente del consiglio fondamentalmente non serve a niente che la sua parola non serve a niente guardate che in politica estera questa è una cosa molto grave perché tocca la credibilità del nostro governo vuol dire che ogni qualvolta il presidente del consiglio conte andrà in giro per il mondo e dirà io la penso così e l'italia farà così o colà qualcuno sarà legittimato a pensare che questo non è vero perché il presidente del consiglio può essere smentito in qualsiasi momento è stata una cosa gravissima naturalmente noi sul global compact torneremo in aula cercheremo di tornare in aula per discuterne perché è una contraddizione anche della maggioranza che ci deve dire che cosa pensa perché poi ieri è uscito il ministro Moavero il ministro degli esteri confermando il suo appoggio al global compact è uscito Brescia il presidente della commissione affari costituzionali quindi una persona senior diciamo così importante nel momento 5 stelle per riaffermare questa cosa quindi c'è chiaramente un disaccordo tra l'altro segnalo che il presidente Fico ieri in aula non si è visto sappiamo che una ventina di parlamentari del momento 5 stelle non si sono presentati a votare non si sono fatti vedere quindi un po' come detto il sottosegretario Spadafore il sottosegretario alle pari opportunità che lui sta in questo governo tappandosi il naso probabilmente non è soltanto lui che lo fa devo segnalare peraltro che oggi sentivo in aula che il Maie che è una componente del gruppo misto ha acquisito un nome tipo Sogno Italiano una cosa strana mi chiedo se per caso non stia nascendo un gruppo di responsabili sapete come si chiamano quelli che non fanno sciogliere la legislatura i responsabili e mi chiedo se Salvini non stia cercando di far fuori il Movimento 5 Stelle di fare un governo con Forza Italia, Fratelli d'Italia e magari una quarantina di responsabili tra gruppo misto, fuoriusciti del Movimento 5 Stelle e chi altro e magari che non sia questo il sogno italiano che devo dire viviamo tempi molto particolari amici miei ma passiamo ad un altro argomento non prima di avervi ricordato di piggiare la freccetta condividi che cosa siamo andati a dire Anna Scani e io qualche minuto fa in aula alle ore 16 ma siamo andati a chiedere che Luigi Di Maio venga in aula a riferire a spiegarci un po' della vicenda del lavoro nero nella sua azienda del sequestro del terreno dove sono stati trovati dei rifiuti inerti e gli atti sono stati mandati alla procura di Nola quanto pare e lo abbiamo fatto per un motivo semplice come ho detto nel mio intervento alla Camera quando si dice che l'onestà rimpiazza tutti gli altri requisiti per cui basta essere onesti non c'è più bisogno di essere competenti di saper fare le cose di capire quello che si fa l'importante è l'onestà poi all'onestà almeno quella deve rimanere deve essere provata a 360 gradi perché se manca anche quella già non eri competente già non sapevi fare le cose hai detto che meritavi quel posto perché eri onesto ma poi si scopre che non eri neanche tanto onesto allora ci si chiede di che cosa si stia a parlare qui tutti quanti insieme allora se Di Maio vuole farci la cortesia di venire a raccontarci della sua onestà in aula noi gliene saremmo molto grati perché pensiamo che l'Italia debba sapere che gli italiani debbano sapere non lo faccio per accanirmi con Di Maio lo faccio perché proprio perché dal suo punto di vista la onestà è l'essenza della testimonianza politica e lo dice lui non sono io che lo dico io penso che l'onestà sia un prerequisito cioè che dovrebbe essere data per scontata diciamo sei onesto va bene ora passiamo avanti e cominciamo a vedere la sostanza perché insomma questo è il minimo indispensabile ma quando si dice appunto che l'onestà basta per cui la Castelli può fare il vice ministro dell'economia e dire che studiare non conta la Lezzi può dire che il PIL si produce perché girano i connessionatori d'aria e Di Maio fa le cose che gli abbiamo visto fare e poi si scopre che l'onestà non c'è capite che viene meno un requisito indispensabile anche di tutta questa costruzione governativa che sta ai noi gestendo il nostro paese quindi se volete vedere questo intervento lo trovate sulla pagina Facebook del Partito Democratico ma anche sulla mia pagina Facebook così come trovate i due interventi quello che ho fatto martedì e quello che ho fatto mercoledì in aula durano soltanto cinque minuti quindi forse può valere la pena di vederli anche perché visto che i giornali anche perché i giornali dicono che l'opposizione non c'è invece vi assicuro cari amici e amiche che l'opposizione c'è e combatte anche in modo abbastanza duro tra l'altro queste maschere la maschera che abbiamo messo ieri eccola qui io penso che sia stata una bella scelta sia stata anche un modo molto civile per fare opposizione in un certo senso elegante ma non per questo meno efficace e abbia rappresentato esattamente quello che questa legge provocherà cioè creare una serie di persone che staranno intorno a noi come fossero dei fantasmi è una cosa credo molto triste per il nostro paese mi fermo qui vi do appuntamento spero domani che non succeda niente di strano e naturalmente potrete vedere tutto questo su YouTube sul mio sito in vascafarto.it e sulla pagina Facebook buona serata grazie a tutti grazie a tutti